Questo è Dario Moccia, tra l'altro video anche molto recente, che parla della saga di Eged di One Piece e dell'evoluzione della ciurma di Rufy. Sono molto interessato a questa cosa, perché anche sul secondo canale io ho parlato di Eged, anche dal re del bike and raft, nella fata Royal Reading ho parlato di questo argomento, quindi sono curioso di sentire l'opinione di Dario. Dario, stai ancora leggendo i capitoli di One Piece settimanalmente? Sì, sì, lo seguo volentieri anche. Diciamo che One Piece che sto leggendo negli ultimi mesi, forse addirittura anni, per me è sempre lo stesso punto, io ho sempre le stesse critiche su quel manga, secondo me non cambierà comunque nella prossima saga e quindi basta, la penso sempre alla stessa maniera. Secondo me Dario è un po' disilluso in generale su One Piece, perché io comunque so la sua opinione generale del prodotto, per alcune cose sono pure d'accordo con lui, per altre invece mi sembra che sia un po' tirata, però sono tutte considerazioni ovviamente personali. Abbiamo cambiato posizioni, poi magari Oda improvvisamente cambia totalmente mood e con Warland ci stupisce con una saga assurda dove torna indietro nel tempo, ci fa queste super tavole ariose, bellissime, spaziose, con dialoghi incredibili. Da quel punto di vista sarà sempre peggio, la semplicità che ha contraddistinto il primo One Piece è scomparsa al netto di una trama che ora inizia a diventare molto molto lunga e tosta da gestire e deve essere spiegata a volte anche con dei wall of text. Con bellissimi primi piani, con delle scene belle aperte, sfondi meravigliosi, com'era stata Skypiea, com'era stata Ennis Lobby, com'era stata anche Thriller Barker per certi versi non sta... Nì, siccome è già Thriller Barker avanti, alcuni errori, però non penso, non penso proprio, è proprio un altro One Piece quello che stiamo leggendo, quindi io dico sempre le stesse cose. Con il Time Skip ha deciso di mettere tutto quello che aveva in testa riguardo il war building di questo manga e secondo me gli è sfuggita di mano questa bestia. Ma sono due storie diverse, cioè il One Piece del Time Skip, volenti o nolenti, inizia ad alla basta, con l'introduzione del personaggio di Nico Robin, l'introduzione dei Ponegriff, l'introduzione delle armi ancestrali, ed è la storia che stiamo leggendo oggi, nella quale stiamo entrando nel vivo oggi, ma parte da lì, che poi sia già pre-Timeskip è un altro discorso, però io credo che ci siano tre One Piece. Il primo, Little Garden, eccetera, eccetera, quello che si genera dalla basta fino a post-Marineford e quello che inizia dal ritorno alle Sabaudi, quindi Isola di Mami e Pesci, in poi. Siamo nel terzo grande atto di One Piece che è quello finale. enorme, informe, e adesso per gestirla si sta muovendo, sta correndo come un pazzo. E anche in queste saghe dove succedono tantissime cose, io purtroppo non riesco a farmelo andare giù. Però ecco, il commento giusto è di Stecca, è diverso ma non significa che sia peggiore. Esattamente, ma banalmente, faccio un esempio banale a cui possiamo arrivare tutti, è Dragon Ball e Dragon Ball Z. Cioè, sono due storie diverse, perché non è come One Piece che è un'unica macro storia, che puoi dividere in archi se vuoi, però il primo Dragon Ball col secondo Dragon Ball nulla a che vedere, però per me Z è una grandissima figata. Lo che mi dispiace tanto è che si misura la qualità del capitolo con il numero di informazioni di dati, però anche questa è una cosa che dico sempre. No, ecco, questo secondo me non è vero. Cioè, ci sono dei capitoli di grandi rivelazioni che secondo me sono molto belli, ma a volte ci sono dei capitoli pieni di informazioni che per me sono semplicemente brutti, perché o le informazioni sono note, tutto, adesso magari ne parlerai, però tutto è GED, oggettivamente, per tutto è GED intendo quello che ci aspettavamo, a livello di trama. Vegapunk non ci ha detto niente. Nulla. Vè a noi, lettori. Al mondo di One Piece ha detto tante cose, però le tante informazioni di Vegapunk per noi sono carta straccia. È un capitolo bomba, perché Oda ci ha rivelato questo, questo, questo e questo. Sembra un bollettino di guerra. Oggi il bollettino ci dice che, ah, bellissimo, dai, oggi abbiamo scoperto questo. Ma non deve essere un telegiornale, cioè, dove si scoprono i misteri del mondo. Ma è il punto che i misteri del mondo noi non li conosciamo. Cioè, quello che dice Dario è vero. Cioè, Oda adesso deve cercare di incastrare tutto con la trama. Ma la trama non si sta muovendo. Cioè, noi ancora non sappiamo un cazzo di One Piece. Anche se, per me, personalmente, sappiamo già tanto se non tutto e dobbiamo solo avere l'ufficialità. Cioè, io il fatto che il One Piece sarà qualcosa che c'entra con il brindare e l'essere fratelli. Mi sono molto convinto, perché ce l'abbiamo da tutto One Piece questa cosa. Da Rufy, Zoro, Nami, eccetera, che brindano, prima di andare da Sanji, forse addirittura o subito dopo Sanji, e brindano all'avventura. Ognuno dice i suoi sogni. A tutti i finali di saga in cui brindano, ballano e festeggiano. A dichiariamo che diventiamo fratelli con il brindisi. A il liquore di Binx, Bruk e tutta quella storia lì. Al diventiamo una grande frotta, quindi brindiamo. Sono molto, molto convinto che il One Piece andrà in quella direzione lì. Molto convinto. Tant'è che io mi sono fatto un tatuaggio quest'estate, che sono due boccali di birra che fanno un cin cin per motivi legati e slegati a questa cosa. Perché a me capita spesso e volentieri, quando vado allo stadio, di brindare insieme ai miei compagni di tipo che mi vedono fuori dallo stadio, e mi offrono una birra e facciamo due chiacchiere. Bellissimo. E quel momento lì è il mio momento preferito. Lo dicevo anche qualche tempo fa, proprio qui, in qualche reaction. Perché crei dei legami. Cioè il brindisi, la condivisione di qualcosa che in questo caso è un bicchiere. Beviamoci qualcosa insieme mentre facciamo una chiacchiera. Passiamoci il tempo mentre creiamo un legame. È meraviglioso. Quindi per me è esattamente questo. Tant'è che davvero per me il sogno di Rufy è legato a questa roba qui. Fare una grande festa con tutte le persone del mondo. Io sono davvero convinto che sia una roba del genere. Perché deve essere una roba banale e scontata il nuovo sogno di Rufy. Perché siamo stati tutta la vita consapevoli che il sogno di Rufy era diventare il re dei pirati. No. Guarda caso, non è più questo. Tutte in una volta. E tutta la ciurma è anche un po' meravigliata. I più divertiti sono tipo Chopper che si mette a ridere. O gente che dice, ah, è proprio qualcosa che ti accomuna, Rufy. Banalmente, come inizia il Warland. Con la ciurma che si divide perché sono ubriachi dopo i festeggiamenti. Ed è meraviglioso perché per me è tutto stile One Piece. E aggiungo, l'alcol è una grande parte della storia della pirateria. Volenti o nolenti. E One Piece è un manga sui pirati. Certo che devi riprendere Federico, certo. Cioè, dovresti incastrare questi misteri rivelati anche una buona narrazione. La buona narrazione non c'è. Ma poi mi sono scadute tante cose. I frutti del diavolo che ormai contano solamente se sono zuzu mitologici o ancestrali. Che cazzo che è? I power leveling tutto assurdo. Leggi il manga. Anche nell'ultimo capitolo si è visto una roba che secondo me non sta né in cielo né in terra. Sui power leveling con me sfonda una porta aperta. Per me, Federico, tappati le orecchie dato che sei arrivato Water 7. Per me, Rufy, che è Nika, che è Joy Boy, mi fa cadere le palle. Perché io oggi non trovo nessun nemico, nessun nemico che possa mettere i bastoni tra le ruote. Se non Barbanera, ne trovo uno. Ma perché? Perché ha un frutto del diavolo che si sposa perfettamente con la possibilità di contrastare il suo. Fine. O arriva uno che ha un'ambizione talmente grande che... Metti che Shanks ha questa cazzo di ambizione incredibile fortissima. Se no, nemmeno lui. Però è una storia alla fine, quindi sapere le cose è buono. Cioè, quel proiettile, no? Che fa esplodere tutto. Raga, ma quanto cazzo è forte? Scusa, ma... Cioè, sono troppo forti. Vabbè, che Yasop possa far esplodere una barchetta. Nulla a che vedere con Rufy che può piegare il mondo a suo piacimento. Ma scusa, come facevano essere al pari degli altri imperatori o quasi? Sono troppo forti. Ma invece, guarda, ti dico che per me è il contrario. Sono troppo deboli quelli di Rufy. Cioè, paradossalmente, anche solo l'ultimo capitolo, il Warland. Nami c'ha Zeus. Bene o male se la può cavare. È comunque un'arma derivata da un imperatore. Usop c'ha i cazzo di semi lanciati con una fionda. E fa parte della ciurma di un imperatore. È uno dei primi entrati nella ciurma dell'imperatore. Anche quelli scarsi come Nami, almeno un qualcosina in più, è Usop che è indietro. Cioè, da Usop a Yasop, che dovrebbe essere, non so se lo scontro finale o comunque il cecchino di Barbanera, ma c'è un dislivello incredibile. Oggi c'è un dislivello incredibile nella ciurma. Rufy può fare quello che vuole e Usop perderebbe ancora la curo, probabilmente. Quindi questa è una roba che mi manda nei matti. È tutto sgravato, ma anche quando quel personaggio con una sola spadata distrugge un'intera ciurma, ma non è possibile, ma come è possibile? Ma chi? Shanks? Chi è il personaggio con la spadata? Non è possibile che sia così forte. Mi vuoi fare questa ciurma potentissima perché devi andare verso la guerra finale. Ok, ma quindi tutto quello che ho letto, cioè, boh, poi magari, come dicono qualcuno, c'è la teoria che avevano riempito d'esplosivo e il proiettile serviva a far scattare lo spadata. Ma che teoria? Ma non è una teoria. È il fatto che è la ciurma di un imperatore che sono imperatori da anni e basta. Speriamo, speriamo. Comunque sia, la spadata c'è. Quindi non è che c'è la spadata che sconfigge una persona che era... Ma Dori e Broghi, cioè, non sto capendo il punto qua. Un imperatore poco prima. Mi sembra strano. Ma poi, ragazzi, scusate, eh. Una delle cose che mi ha fatto capire che non sto più leggendo quel manga lì. Provo a farmi capire senza spoilerare. Ci hanno fatto un cazzo così con un personaggio, ok? Durante la saga di Eggert. Dove abbiamo visto il flashback, la sua trasformazione, anzi, senza virgoletto, in tutti i sensi, il rapporto con la figlia, tutto super romantico, per carità. Ma, cioè, il finale di questi due personaggi è nell'ultimo capitolo. Su questo sono molto d'accordo. Perché Oda è un codardo da questo punto di vista. Cioè, Oda ci sta raccontando One Piece come se fosse, non lo so, una favoletta della Disney. Cioè, era bella addormentata nel bosco. Sì, cazzo, muore perché si punge con l'ago avvelenato, però poi... Eh no, arriva il principe e la salva. Orso era morto. Cioè, il personaggio di Orso era morto. Secondo me non c'era necessità di regalare un lieto fino ad Orso. Per quanto lo avrei voluto, perché mi sono innamorato del personaggio di Orso, del suo flashback, eccetera, eccetera. Ma più di così, che cosa mi può dare se non semplicemente un assist alla ciurma nell'ultima battaglia che andranno a combattere o robe del genere? O forse l'unico movimento di trama che mi può venire in mente è che oggi Oda sta radunando la flotta dei sette. Abbiamo Buggy Clown, abbiamo Miok, abbiamo Crocodile, molto probabilmente avremo Moria con Perona da quella parte lì. La flotta dei sette originale c'era Orso, che ormai è con i Mugiwara, è sulla nave dei giganti con i Mugiwara, me ne viene in mente Jimbe, che è già nei Mugiwara. Boa Hancock non starà mai contro Rufi, quindi si sta cercando di prendere la flotta dei sette originale o comunque i più iconici della flotta dei sette e metterli al servizio di due fazioni, quella di Rufi e quella di Buggy. C'è anche Weevil che dobbiamo capire da che parte starà, però questo lo posso comprendere, perché avrai poi alla fine i Serafini che ora ha la Marina. Una parte che è della Cross Guild e una parte che è quella di Rufi. Questo secondo me è lo scenario che sta mettendo in piedi ed è l'unico vero motivo per cui mi viene a dire ma sai che alla fine se Orso è ancora vivo mi va bene, ma il personaggio di Orso per me meritava veramente un finale epico di quelli che ti rendono immortali. Ma è una vignetta, due mi pare, piccolissime. Sono contento, abbracciate. Ma perché di questo 100% farà delle mie avventure? Ma scusa, me la chiudi così? ci sono rimasto malissimo. Perché un rapporto del genere Oda tempo fa l'avrebbe chiuso con Dio Bono, violini, orchestre, cose, pianti, strepiti. Qua questa cosa ammetto che mi preoccupa per un motivo però differente da quello che dice Dario. Sì, Orso ora dovrà viaggiare il mondo con Bonny se l'erano promesse, eccetera, sarà bellissimo come quando Gohan chiede a Goku di andare a pescare e Goku glielo promette però poi vanno su una mech e poi arrivano i cyborg allora ci puoi andare solo quando ti riposi dopo la stanza dello spirito del tempo ma lo fai. Bene o male è quella roba lì. Però io vedo Yamato che doveva unirsi alla ciurma non ci va perché deve fare delle altre cose. Bonny e Orso che sarebbero pronti però devono fare delle altre cose. Cioè, tutte queste cose quando le fanno a livello temporale? Cioè, su una linea del tempo quando me le metti? Non dimentichiamoci che la ciurma di Rufi è partita al Nuovo Mondo mica sei anni fa. Cioè, noi abbiamo iniziato a leggerlo quindici anni fa non lo so, una roba del genere è il Nuovo Mondo forse venti non ne ho idea adesso non mi ricordo. Però per loro sono passati pochi mesi quindi su una linea del tempo tutte queste cose devono accadere quasi contemporaneamente al finale dove poi li dovremo rivedere quindi questo ammetto che non mi torna o fai un altro time skip e lo trovo privo di logica o non lo so. Un abbraccino abbiamo capito che ti fa schifo puoi dirle tranquillamente non ti arriva la polizia a casa ma infatti ne sto parlando tranquillamente non so se hai notato Francesco ma questo si chiama dibattere si chiama esplicitare un pensiero si chiama confrontarsi mi fa schifo è un capo lavoro no ci sono anche poi tantissimi sfruttori di ricerca dove ci si può confrontare con le persone grazie Dario che la pensano diversamente da te sono un concetto astruso nel 2024 ma lavorandoci ce la puoi fare che altro sui social già nella vita reale ma poi sui social questo è basta io poi ragazzi non so non so più che dire cioè intanto sono un disco rotto capito basta boomer non c'entra niente Riccardo perché leggo One Piece quando te ancora eri nei pensieri forse di babbo prima che scappassi ovviamente di casa e lo leggo dal 2001 io avevo 11 anni e soprattutto ho studiato fumetto ho imparato a fare i fumetti accanto a tuono pettinato mentre te scureggiavi in classe mettendoti petardi in culo quindi devi stare molto tranquillo calmo perché sicuramente ne sei meno di me e basta questo è il mio pensiero su su questa roba qua ma non mi sembra chiusa no aspetta scarelle ovviamente sono sulla nave succederà qualcosa dopo quello che dico io è che è chiuso il loro rincontro cioè secondo te Oda che era romanticissimo nella sua prima fase di carriera gli avrebbe fatti riabbracciare così ma questa roba qui la vediamo da subito dal quando rinizia il time skip perché io dissi già ai tempi c'è qualcosa che non va e mi pare lo disse anche Sommo Buta quando si rincontra allora un'altra scena bellissima di One Piece passata sotto traccia è Kinemon che dopo vent'anni di viaggio nel tempo dopo la speranza dopo l'alleanza samurai pirati ninja mink e tutte queste puttanate del viaggio nel tempo e la previsione vendichiamo Oden eccetera eccetera lui in realtà sta via da Wano poco cioè oggettivamente poco lui Momonosuke Kanjuro stanno via poco però dall'altra parte c'è un A Wano che aspetta vent'anni venti fottuti anni tra cui la sua compagna Zuru e Kinemon e Zuru che trovano questo lieto fine lungo vent'anni ma allo stesso tempo lungo pochi giorni è una mezza vignetta buttata lì anche disegnata male che forse non capisci però oggi One Piece è diventata sta roba qui devi coglierne le sfumature e se riesci a coglierne riesci ad emozionarti cioè a quel momento lì con la piccola vignetta lì mentre ci sono i giochi i fuochi d'artificio le fiaccole è meraviglioso e concordo con Dario probabilmente tempo fa avresti visto delle pagine dedicate ma One Piece non può durare 70 anni è questo il punto dopo due anni non si abbracciano nemmeno tutti insieme prendono e partono subito non si toccano mai e ci sono pochissimi dialoghi tra di loro c'è Zoro senza un occhio senza un occhio e l'unico dialogo che ha riguardo questa cosa è Sanji che parla con un cretino e il cretino gli dice ah il pescatore il samurai senza un occhio e poi quando mi pare vanno giù agli isolami di pesce c'è Rufy che si avvicina a Zoro senza nemmeno sfiorarlo sono tutti e due appoggiati alla banchina della nave gli dice ma allora Zoro com'è andata in questi due anni eh tu sapessi però questo non è necessario cioè paradossalmente la ciurma di Rufy è stata più tempo con le persone del timeskip piuttosto che con la ciurma stessa cioè loro avranno passato insieme nove mesi di tempo effettivo contro i due anni di timeskip quindi cioè non credo che queste siano cose determinanti cioè Nami e Usop si abbracciano dipende anche dai tipi di personaggi cioè Nami prende Usop e se lo pianta nel seno cioè dipende molto dai personaggi c'è Robin che è stato accanto al babbo di Rufy cioè nemmeno Robin che fa lo sai che ha conosciuto tuo padre? ma Rufy non gliene frega un cazzo di suo padre e a Robin non gliene frega un cazzo di parlare quindi io lo trovo molto logico con i due personaggi in realtà io capisco che voglia nascondere qualcosa che forse c'è qualcosa sotto ma no ma quando trovano Pluton quando trovano Pluton Robin dice Rufy la vuoi? no non mi interessa no ma di quello che è successo nei due anni magari l'hanno fatto l'avranno fatto fuori dal fumetto cioè non credo che ci c'è adesso facciamo un ragionamento noi oggi abbiamo letto non so quanti capitoli di One Piece quindi perfetto ci siamo ok ma io che è 12 anni circa che continuo a leggermi capitoli settimana dopo settimana se mi trovo un capitolo in una settimana in cui c'è Rufy che chiede a Zoro Zoro cos'hai fatto? ah ero con Perona con mio mi sono allenato ho fatto le spadate tu cosa hai fatto? ah io ho picchiato gli animali settimana dopo Sanji cos'hai fatto? sono scappato dagli uomini travestiti tu ci opera io sono stato preso dagli uccelli e poi il capitolo dopo Frankie che dice eh mi ha scoppiata una bomba in faccia mi sono coperto con il pelo di un animale tu Robin ah io ho costruito un ponte con i rivoluzionari cioè sarebbero 3-4 capitoli buttati via buttati via letteralmente mi sarei anche rotto il cazzo all'interno di un volume leggendo il volume intero sarebbe stato anche simpatico ma già ce ne sono tantissimi secondo me di capitoli che allungano il brodo rompono il cazzo anche a Uano banalmente tutta quella parte in cui Rufy fa il sumo ma chi cazzo se ne frega cioè io questi capitoli li toglierei e sono esattamente questi capitoli di cui parla Dario di cui sente la mancanza per me ci sono ancora e alcuni capitoli sono veramente una palla una palla è davvero stranissimo stranissimo quando prima parlavano un botto i dialoghi tra Usop e Rufy a Water 7 erano straordinari questo assolutamente sì infatti Usop è un personaggio non dico morto ma straordinario solo Nami e Usop si abbracciano perché Usop gli tira la testa nelle tette minchia indimenticabile Rufy e Usop si confrontano su cosa vuol dire essere un pirata su cosa vuol dire ma anche il dibattito che hanno sulla Mary su Relic gli vuol dire le cose bello bellissimo non vuoi saperle Usop invece sì cioè sono confronti fighissimi cioè ma banalmente Franky era uno dei miei personaggi preferiti prima del timeskip oggi dico eh eh cioè come presentano Franky a Water 7 Cazzo che carica ma che bel personaggio era oggi dico eh ok eh sì ha sgasato su Big Mom con una moto bravo non fa un cazzo non fa un cazzo Ciopper non ne parliamo per fortuna Nami le stanno dando comunque un po' di spazio io sono ancora convinto che su Nami ci dovremmo anche ritrovare con qualcosa in più però effettivamente uso per Franky sono due personaggi che sono stati smontati a livello caratteriale nel timeskip non ci sono più Franky sembra che dopo sembra sembra essersi rimosso il cervello ecco vedi prima Franky era un personaggio super coinvolto abbiamo detto la stessa cosa eh Franky io l'ho l'ho adorato poi io Water 7 la prima volta l'ho visto tutto anime prima di leggerlo manga quindi quell'anime lì come era disegnato è quanto mi gasava cioè Ruffy contro Usop per la Mary o il funerale della Mary o Franky o quella roba lì mamma mia emotivamente tantissimo l'unica volta dove lo vediamo emozionarsi per qualcosa seriamente cioè è qua col signor Pink e anche lì ha incontrato finalmente il suo eroe lo ha lì con lui però non abbiamo visto ancora un dialogo sensato tra i due e l'unica cosa che fa è urla tira fuori le moto cannoni le ose quando prima era super coinvolto si adesso è solo super basta stop invece prima cazzo aveva le bottiglie di coca cola dentro gli addominali cadeva il ciuffo cioè queste sono cose meravigliose stendiamo un velo pietoso si Ciopper è morto Ciopper è il personaggio dei ciliegi ragazzi ma Ciopper Ciopper non c'è la promessa fatta al dottor Iruruku chiamatelo come volete ma dov'è ma che diventa cos'è raga ma voi vi ricordate ne parlavo l'altro giorno non mi ricordo con chi ah Mario qual è uno dei tuoi sconti preferiti io ho citato uno scontro che non cita mai nessuno io probabilmente ti dico Rufi versus Usop quello è troppo bello troppo bello ma vi ricordate lo scontro ad Alabasta di Ciopper e Usop in combo insieme sì a me ha fatto ecco a me quello non è che sia piaciuto proprio tanto anche se capisco che è una genialata contro il cane che sparava le palle e la talpa c'era Usop completamente iranato senza denti con il naso tutte collegate tra loro e scoppia tutto in aria beh uso Panca Thriller Bark contro Perona cioè i martelli gonfiabili scarafaggi ma poi lì era appena passato Sogeking madonna Sogeking se gasava io desidero che torni Sogeking perché io voglio che torni Sogeking anche se dal punto di vista della crescita caratteriale del personaggio Sogeking sarebbe un danno perché Sogeking era Usop che aveva paura si nascondeva dietro quelle robe lì però sarebbe meraviglioso e oggi ci sono troppi personaggi troppi anche nella ciurma quindi ho dovuto tagliare un po' grazie Jack per l'anno tanti auguri ciao raga ed era fighissimo perché anche a Thriller Bark la tanto vituperata Thriller Bark quando incontrano Perona sono cazzi sono cazzi perché Perona sconfiggeva anche i mostri ovvero Zoro Sanji Rufi lui era immune che cazzata incredibile era immune perché era pessimista e quindi era bello perché Oda trovava degli incastri che non ti aspettavi perché Perona chi lo può chi lo può sconfigge solo Usop perché già distrutto e allora giustamente loro tre gli dicono ci affidiamo a te cioè la sciurma di Rufi era quella che quando Usop veniva toccata andava a distrugge pianeti interi era bello vedere questi incastri ora gli incastri sono tra spadaccini tra gente si pigliaccarci che sono gli spadaccini poteri assurdi questa roba di Usop spettatore di Usop che riesce a farcela perché con il coraggio e con l'intelligenza riesce a venire a capo in un mondo di mostri sparito non c'è più cazzo fagli almeno spegnere l'incendio no arriva Gimbe tira le piante gonfiate e spegne l'incendio non è riuscito nemmeno a far quelli no lì è ancora peggio non è neanche stato Gimbe è stata l'acqua raccolta nei rotoli di Raizo dell'acqua della proboscite di Usop perché così i mink potevano vendicarsi ma neanche Gimbe avrebbe prestato di più Gimbe neanche Gimbe c'era le armi ora a cosa servono a cosa servono che Nami ha preso il potere di Big Mom e no invece questa è una gran figa cioè scusami Dario con tutto rispetto però è la ciuma di un imperatore è la ciuma di un imperatore almeno che quelli un po' più indietro possano dire ok non è che muoio se viene ad affrontarmi Wapol mi sembra giusto perché oggi Usop perderebbe da Wapol probabilmente che armi che armi gli fai a posto perché secondo te perché ha messo i ragazzi ma quanti personaggi ci sono a Wano ecco troppi personaggi troppi personaggi i foderi rossi e quell'altro rincoglione non toccare i foderi rossi i miei fratelli il nome cazzo si chiama e viene a mente vabbè comunque tutta la sciurma di Kaido tutti gli smile di Kaido sì lì veramente troppa roba è quello che però vedi queste sono le cose che comunque Dario chiede cioè un po' più prima dice che si va troppo di fretta poi dice che ci sono troppe cose cioè o una o l'altra leggere il fumetto settimanalmente ti mette in questa condizione no ma non è uno scontro mi ritrovo in tantissime cose che dice Dario veramente in tantissime però su altre secondo me si è semplicemente disilluso del prodotto tutti i personaggi secondari è la vecchia il babbo e la moglie il coso con troppo ma poi è complicatissima anche la mappa di Wano gigantesca ogni due per tre disegnava la mappa perché non ci si capiva più una sega i monster le cose non ci si faceva i personaggi del genere vengono assolutamente messi da parte e poi mostri del genere possono affrontare solo i mostri uso peciopperi in quel contesto non serve proprio a nulla eh però allora è giusto che Nami abbia il potere di Big Mom perché se no senza quello non ha il power up e non servono niente va con usop e cioppera a fare la ragazza pompon ciopperi lo usano perché deve curare c'è Zoro come si fa come si fa che poi mi pare non lo cura nemmeno Chopper c'è il caprone dei no non c'era il caprone dei mink mi sembrava lui mi pare mi pare che non lo cura manco lui il dottore di Zul lo cura è vero il caprone cioè io ragazzi mi spiace citarla ma secondo me quello serve per farci capire cioè una mossa come fa in realtà Chopper ha un altissimo momento a Wano e tra l'altro abbastanza anche di di attualità perché quando Quinn parla del del virus del e lui tira fuori un po' i coglioni e parla dei vaccini di come si possano debellare i virus del fatto che gli scienziati dovrebbero lavorare per il bene dell'umanità quello è un bel momento secondo me di Chopper però credo che sia l'unico grande momento di Chopper insieme a quando è a punk hazard e vuole salvare i bambini dal time skipping poi un po' troppo poco Fata Morgana di Nami non la vedremo mai più ma no ma certo Fata Morgana era una roba super strategica cioè ma no ma poi il bello di One Piece secondo me è che non era roba usegetta come Indora cioè non era roba usegetta a differenza di Dragon Ball cioè Goku fa la Kamehameha da quando è bambino la Genkidama la impara prima di Namek ci sconfigge Majin Buu cioè la roba la roba effettivamente di Dragon Ball è riciclata One Piece tante volte vinci con un unicum con un unicum eh vedi bravissimo Stecca Usop che dice ai foderi rossi loro Usop insegna a vivere ai foderi rossi cioè è come uno di noi che va in Giappone e dice a un giapponese che la loro cultura è una minchiata perché l'onore morire con onore è bello perché ma fa un culo coglione ma io mica voglio morire voglio vivere cioè fa un po' Nicolò voglio vivere è una roba bellissima per me quello è un grande momento per Usop te sconfiggi sta donna potentissima con gli inganni era una strega Nami era fighissimo per questo era proprio una strega cioè usava i poteri magici con il meteo e tutto che poi il meteo sembra un po' una magia per i primitivi era un po' una magia degli dei e ora c'ha Zeus dove vai? eh però l'altro giorno arriva nel Warland e arriva sto cacchio di che cos'era? un coniglio non mi ricordo neanche più questo mostro gigante è fatta Morgana gli dai una scarica di elettroshock e lo butti giù dove vai? cosa fai? non l'ho adorato il live action disegni è facile parlare dei disegni cioè è veramente sparare sulla croce rossa più che dei disegni io ti parlo dei fondati cioè la tavola di One Piece del primo One Piece di oggi è completamente differente cioè è molto più piena più sporca quindi da quel punto di vista io concordo è una roba terrificante sai i disegni lasciano poco spazio all'interpretazione alla paraculata cioè i disegni si fanno schifo fanno schifo lo vedi lo senti e quando in un capitolo ormai si è operata all'occhi ha fatto tutto il riposo quello che voleva vedi ancora la matita manco cancellata lì non so se Oda però penso che sia più il team che gli sta dietro cioè Oda secondo me ormai dico che non faccia niente perché non è vero che sicuramente lui avrà una grandissima fetta però sicuramente non su quei dettagli non perderà tempo in quello immagino no c'è quella roba lì no ma non è vero quando vuole disegna bene ma cosa vuol dire Alessandro scusami cosa vuol dire quando vuole una delle tavole veramente ben disegnate è il cos'è il cervellone proprio Eged adesso mi ricordo il nome quella è una tavola veramente disegnata bene però è una e mezza tanto di meno disegnare sempre bene sei il manga più venduto del mondo da te dipendono 400.000 aziende è il suo lavoro quando voglio così quando mi sveglio no no ma infatti quando vuole non ha senso però che i disegni siano peggiorati è un dato di fatto ma oggi personalmente leggo One Piece perché lo leggo da tantissimi anni e sono veramente curioso di capire come va a finire certo ci sono delle criticità ci sono per dire anche nella Juve le criticità continuo a guardare la Juve non è che dico non la guardo più perché sbagliano troppi gol anche quello è il loro lavoro però le criticità ci sono maggiore ragione quando diventi così grande hai due strade o dici ok me ne rendo conto no ne hai tre ok me ne rendo conto ma comunque lo seguo lo stesso ti metti le mani davanti agli occhi e dici non me ne fotte un cazzo è meraviglioso come ti permetti di dire sta roba oppure arrivi a dire oh mi fa cagare non lo seguo più bene se no non mi rompete il cazzo ma che vuol dire ok anche questo è un contenuto che ci stava a guardare perché ci sono molte informazioni su One Piece potremmo veramente stare qui a fare delle live intere magari un giorno le faremo però questo è un contenuto che volevo assolutamente vedere poi spero di aver detto delle cose condivisibili ecco diciamo così grazie a tutti